Forza andiamo Ok Voglio vedere le espressioni che faranno i miei fratelli Quando scopriranno che Noi ce l'abbiamo fatta Ok Andiamo Ma dove stanno? Santo cielo Non ti preoccupare Luke Sono sicura che Staranno per arrivare Sì come no E ma perché non arrivano? Può darsi che ci hanno messo tantissimo A fare Quella cosa Sì come no Tesorini? Che c'è? E che Twilight non si fa vedere Sono le 5 in punto Ancora non si fa vedere Oh no chissà che sarà successo No non ti preoccupare Ma non sarà successo niente Vuoi sapere qualcosa? No Certo che no Ti pare che noi sappiamo qualcosa di questa Storia? Ma ti pare? D'accordo Eh sì sì già Esatto Ok Arrivati Arrivati Dimmi che sono loro Avanti Ciao ragazze Twilight Nostra madre È un pensiero Mi avete detto che è andato tutto bene Sì sì Allora Com'è andato? Cosa è successo? Alla fine è andato tutto bene Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Non sembra il suo Perché Lei non aveva un libro così Che libro è? Beh, è un libro Come già visto È giallo con Un po' di azzurro È vero Apriamolo un po' Non so che libro sia Ah, ti pareva Soltanto qualcuno può saperlo E chi scusa? Non lo conoscete? Chi? Magic Esatto Magic Sì, Magic il grande mago di Equestria Ah, quel Magic Non lo conosco No, seriamente chi è? È il mio cugino Tu hai il cugino E da qua di qua? Tantissimo tempo Non ve l'ha detto Nostra madre No Mamma Sì, tesoro? Vieni Che c'è? Perché mi racconta Allora, ok Io avevo Un cugino Mamma Ah, la solita Va bene Ma prima di chiamarla È meglio scoprire che c'è Che c'è? Aspetta Questo libro è veramente familiare Non c'è bisogno di chiamare Magic Sembra Perché qui parla di Diamond Meat, Pinkie Pie E non si capisce l'altro nome Reality Vuoi dire quelle cattive? Che ci fa questo libro qui? Oh no È il diario segreto di loro Casa! Come ci è finito qui? Non so Forse Quando sono arrivati loro La prima volta E hanno cominciato a fare un casino In casa nostra Forse hanno lasciato qui il libro E forse nostra madre Quando ha messo tutto a posto Non si è accorta del libro E l'ha lasciato dentro la biblioteca Perché è entrata Cioè, sono entrate Sì Quando stava per iniziare la scuola Il giorno prima di iniziare la scuola Erano venute quelle tre Però c'era anche lì il blossom Invece adesso l'hanno cambiato Però non capisco niente Perché Cioè Perché dovrebbe esserci Non capisco E quando l'hanno aggiornato Non può essere che l'hanno aggiornato Pochi tempi fa Infatti Il blusso stava ancora con loro Molto strano Troppo strano Non sono più andati via da casa nostra Oppure Può darsi che In questi giorni In questi giorni che siamo stati in scuola Io Per sbaglio Ho raccolto un libro Che non era mio E è rimasto qui Può darsi Perfetto Se ci vedrà Che casino Cioè Succedere Dovrebbe succedere qualcosa di strano Strano Cioè Brutto Anche troppo Se sa che noi abbiamo Il loro libro Ci ammasserà E non esageriamo Ma è vero Sono così cattive Che potrebbero ucciderci E Madonna Anche troppo forse Troppo No Non è troppo Ok Non è troppo Non è esattamente troppo Comunque Che dovremmo fare Devo cercare di metterli dentro Devo riuscire a metterli dentro Il loro Zaini Uno dei zaini Senza farci vedere E come pensi di farlo Proprio Non lo so È impossibile Mettere questo cavolo di libro Se ci scopri Sono troppo furbe In realtà Non siamo più noi Però Come facciamo Come facciamo Come facciamo Ci serve Un altro piano E tu hai mente qualcosa No Ok Un altro piano Ma perché un altro piano Sempre pieno Dobbiamo fare In questa scuola Cavolo Stai calmo Ok Scusami Hai ragione Ehm Che dovremmo fare Semplice Possiamo Trovare Un modo Per Restituirlo Senza farci vedere D'accordo D'accordo Leggiamolo Prima di tutto Ehm Quando abbiamo letto Scopriremo tutta Perché Si comportano così Ok Sì Eh Ok Leggiamolo Grazie a tutti